Entra nel vivo la campagna elettorale nella città del sabato. Tra i primi a scendere in campo, Giuseppe Spagnuolo alla testa della lista civica. Scegliamo a Tripalda, taglio del nastro per il comitato elettorale in vista del voto dell'11 giugno. Spagnuolo in forza all'Udc e vicino a Ciriaco De Mita sfiderà l'uscente Paolo Spagnuolo, il candidato 5 Stelle Francesco Nazzaro e con ogni probabilità l'attuale vice sindaco PD Luigi Tuccia. Spagnuolo si mostra critico nei confronti del primo cittadino in carica. Questa è una tappa importante di un percorso che stiamo facendo per costruire una proposta seria e credibile per amministrare a Tripalda i prossimi 5 anni. Questa è una tappa importante perché ci avviciniamo ancora di più alla città, ci sarà un periodo di confronto con i cittadini perché la sede sarà aperta sostanzialmente tutti i giorni. Quindi è un percorso che noi abbiamo già avviato in questo senso però adesso lo intensificheremo e avendo proprio questa sede a disposizione della città invitiamo sin d'ora tutti coloro che vogliono in qualche modo dare un contributo o almeno confrontarsi con noi di venire qua liberamente e dare un contributo alla costruzione di quella che noi crediamo sarà una proposta credibile e seria per a Tripalda. Sul sindaco uscente ha già dichiarato di essere in campo come candidato sindaco, è normale che si basi, che chieda il riscontro alla città di quello che ha fatto. Noi abbiamo, ripeto, un giudizio negativo su questa cosa, immaginiamo che anche la città lo abbia però mi sembra naturale che il sindaco uscente si proponga anche per avere un riscontro sull'operato che ha fatto.